benvenuti a questo gameplay di the forest allora vi spieghiamo stavamo in intenda a registrare avremmo modificato i testaggi allora intanto abbiamo visto che laggava a bestia cioè troppo e nel frattempo che eravamo venuti pausa e abbiamo sentito un rumore e ci siamo qui ci siamo riprovati e comunque continua a laggare ma ormai lo continuiamo e chiaro che è divinuito ok allora io so non c'è un cazzo infatti non c'è un cazzo sapete che c'è la luce c'è il contro luce e non c'è un cazzo qual è lo scopo? allora lo scopo è quello di trovare gli uomini nudi per immaginare il bambino ecco però allora in questo momento il nostro scopo è quello di uscire di riuscire a scappare da questo posto no non c'è un cazzo e una volta poi potremmo anche prenderci la birra ma tu ma che è Slender ma non c'è un cazzo ma non c'è un cazzo ma hai troppa paura e che c'è un mon un mon si è ricordato dei momenti, questi qua sono le foto no alla fine, quando fai Gatoland si danno poi le foto finisce così, non so che vedi The Forest, eccoci nel menù, nel menù, diciamo che l'altra avventura è stata anche avvingente è stata abbastanza breve, però vincente, vogliamo dire che per visitirtus non lo facciamo perché è noioso è proprio noioso, ne abbiamo provato però, e niente ci vediamo al prossimo video va, breve video di merda, a vederci